I centomila giovani ugandesi raccolti nell'ex aeroporto di Coccolo inseguono la papamobile di Papa Francesco con gli occhi, le mani e le gambe al suo arrivo sotto un caldo suolo africano. E il pontefice ringrazia per l'entusiasmo lasciando da parte il discorso preparato e improvvisando una catechesi dialogata in spagnolo con traduzione simultanea in inglese ispirata alla testimonianza di due giovani. Winnie, malata di EDS fin dalla nascita, e Emmanuel, rapito dai miliziani dell'esercito di liberazione del Signore per arluorarlo come bambino soldato. Il Papa ascolta con molto dolore e si chiede una esperienza negativa, può servire a qualcosa nella vita? Sì, risponde. Winnie ed Emmanuel lo dimostrano, lei per come affronta la malattia, lui che è fuggito dai miliziani. Hanno trasformato la depressione in speranza, commenta il Papa, e questa non è una magia, è opera di Gesù. Perché Gesù può tutto, e Gesù ha sofferto la esperienza più negativa della storia, è stato insultato, è stato scacciato ed è stato assassinato, ma Gesù con il potere di Dio è risorto. Egli può fare in ognuno di noi lo stesso, con ogni esperienza negativa, perché Gesù è il Signore. Se io trasformo il negativo in positivo, prosegue Papa Francesco, sono un trionfatore, però questo si può fare solamente con la grazia di Gesù. Siete sicuri di questo? E i giovani rispondono sì. Siete disposti a trasformare la guerra in pace? Un altro convinto sì. Gesù può cambiarti la vita. Se voi credete che Gesù vi cambia la vita, chiedetegli aiuto. E questo si chiama pregare. Lottare sempre e chiedere a Gesù che vi aiuti nella lotta. E pregare Maria, nostra madre.